ciao oggi faremo un video bellissimo cercheremo di togliere i pantaloni completamente in verticale va bene non possiamo utilizzare nient'altro vediamo noi useremo il tempo vediamo chi è che prima di voi riesce va bene chi è la prima che riesce si va bene ok chi vuole iniziare isabella ovviamente ha i pantaloncini corti ma una di voi gli presterà i pantaloni quindi volete iniziare facciamo un ordine alfabetico al contrario oggi ok vai se no dobbiamo fare la sorte facciamo in ordine alfabetico al contrario quindi isabella letizia vai si sei in verticale quindi si a no 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 solo i piedi cioè le mani stanno in verticale ok vai leti parte il tempo quando sei in verticale bravissima sì sì si sono spostati ok abbiamo ognuno di voi ha tre possibilità ok e provate magari a togliere le calze in modo da riuscire con le dita a prendere e tirare chi è la seconda isabella vai gli presti i pantaloni o gli prestati i pantaloni chi gli presti i pantaloni isabella come vuoi con quale pantalone vuoi provare va bene quello della leti ok ci sono ci sono riusciti quindi si può fare ho visto su un tiktok che ci sono riusciti quindi ok isabella da isa da isa da isa con le dita non riuscite ad arricciare prego vai vai brava bravissima da isa fai anche l'altra gamba eh vai 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 bravissima bravissima dai brava ci sei quasi isa eh vai vai ci sei isa brava brava no ce la fai ce la fai ce la fai ce la fai ci sei quasi brava brava isa vai 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 brava ci sei isa ci sei ci sei ci sei bravissima respira prendi fiato vai brava bravissima bravissima allora vediamo giadi brava 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 Giadi esatto brava sì bravissima dai che ci sei aspetta piano esatto vai tira dai Giadi dai Giadi brava brava sì 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 bravissima dai sì bravissima 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 sì dai Giadi dai Giadi brava sì grande chi tocca? mi sa che qui non è a tempo mi sa che chi riesce a farlo vediamo Arianna wow brava brava Ari dai dai devi passare al piede dai Ari forza forza acchiappalo acchiappalo con le dita brava 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 dai dai calma che ci sei vai ti è scappato brava bravissima bravissima dai Ari dai Ari che ce la fai dai dai non mollare eh brava brava dai Ari brava bravissima vai bravissima dai dai ti manca pochissimo si ti manca pochissimo brava brava e ora dai brava si Ari si vai buttalo 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 brava vai brava oh Dio ho girato il telefono bravissima quanto 1 minuto e 37 bravissima Amelia dai Ame dai Ame stai prendendo le misure dai Ame brava dai Ame acchiappa bene brava brava dai Ame e si stanno alzando e si stanno alzando Ame brava brava che violenza secondo me sono un po' stretti i suoi pantaloni brava dai Ame dai bravi dai presi li hai presi bravissima 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 vai 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 Ame vai brava brava non scende dalla pedana ok vai uno delle gambe si è allungata sicuramente brava sta andando via sta andando via sta andando via lanciali lanciali Ame è fatta è fatta no peccato brava però dai ce l'avevi quasi fatta secondo me secondo me erano un po' stretti i tuoi pantaloni Alessia vai brava beh chiappali bene con le dita Ale chiappa bene il tessuto con le dita dai dai brava dai ok dai che scominciano ad andare vai vai brava 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 dai sì sì dai 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 brava brava vai quasi sei quasi alle ginocchia vai brava ok ok scivola no non penso che sia una tecnica dai sì dai sì brava è stato difficile ah sì abbastanza speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella ciao 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 Grazie.